Una società unica per la gestione della risorsa idrica e quanto afferma il capogruppo dell'MPA in Consiglio regionale Mollica nel sostenere la necessità di una reale politica di svolta che guardi alla gestione dell'acqua basata su criteri di garanzia per la tutela dell'ambiente ed il contenimento dei costi. L'istituzione della nuova società avverrebbe di concerto con la Regione Puglia, includendo le Ipli, al fine di ottenere un'amministrazione più efficiente ed efficace, capace di ridurre gli sprechi, salvaguardare la natura e toimizzarne l'utilizzo. Secondo il risponente dell'MPA, l'attuale acqua SPA potrebbe assurgere al compito richiesto attraverso un adeguamento dello statuto alle nuove normative, prevedendo inoltre l'impiego del personale dei consorzi di bonifica. Mollica sostiene dunque l'accorpamento in un'unica governance della complessa gestione dell'acqua al fine di razionalizzare il processo, sia in termini di responsabilità che di costi, eliminando i tanti enti che attualmente se ne occupano e si sovrappongono con inevitabile aggravio di costi.